Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi in questo video vedremo come eseguire un trapianto di una orchidea situata in vaso di terracotta. L'impresa potrebbe sembrare più difficile di quello che realmente è, però se sappiamo come farlo vedremo che riusciremo a salvare sia il vaso e quindi non sarà necessario romperlo e sia riusciremo a salvare gran parte dell'apparato radicale della nostra pianta. La terracotta è un materiale utilizzato nei vasi proprio per la sua capacità di essere poroso e traspirante e perché avendo un certo peso ovviamente aiuta a mantenere la stabilità dell'orchidea soprattutto in quei casi di piante molto alte e pesanti che tendono a sbilanciarsi. Tuttavia il rinvaso non è semplice come una qualsiasi altra pianta d'appartamento perché le radici delle orchidee si aggrappano in particolar modo su questo tipo di supporto. A volte dalla disperazione o perché non riusciamo a estrarre la pianta per paura di rovinarla si rompe il vaso con un martelletto ma questo non è sempre necessario. Prendiamo la nostra orchidea nel vaso di terracotta e immergiamola per alcune ore dentro un catino con dell'acqua. A questo punto una volta estratta ci servirà un attrezzo che sia sottile ma flessibile. Questo è quello che si utilizza per estrarre i dolci dalle formelle. Con un po' di pazienza dobbiamo inserire questo attrezzo o uno simile all'interno del vaso il più possibile vicino al bordo. Oscillando su e giù cercheremo di farci strada varco sarà un po' difficile all'inizio soprattutto trovare il primo punto di cedimento perché le orchidee quando stanno da tanto tempo dentro al vaso di terracotta avranno le radici che si attorcigliano proprio nel lato circolare esterno del vaso. Quando ci saremo fatti spazio andremo fino in fondo con la lama e poi proseguiremo in modo circolare su tutto il perimetro del vaso. Stiamo attenti a staccare bene tutte le radici esterne che si sono attaccate al bordo del vaso e alle nuove vegetazioni. Scollata la pianta dai bordi del vaso tocca ora tirare prendendo la parte vecchia della vegetazione. Ovviamente nel fondo del vaso le radici saranno ancora adese e ci vorrà un po' di forza però insomma il grosso è già stato fatto. Si procede ora alla normale pulizia dell'apparato radicale alla pulizia curata del vaso che va ben lavato con una paglietta ed eventualmente anche in acqua e candeggina se fosse necessario perché magari la pianta aveva un problema per poi essere riutilizzato. La terracotta è un bellissimo materiale che presenta molti pregi anche nella coltivazione delle orchidee ma sempre però ha valutato il suo utilizzo nella prospettiva del momento del rinvaso perché ovviamente è più elaborato rispetto a un semplice rinvaso in vaso di plastica. E quindi da valutare bene sia per quelle piante che sono particolarmente delicate nel momento del rinvaso e sia per quelle che magari hanno per loro natura un apparato radicale scarso che noi vogliamo quindi assolutamente preservare. In questi casi forse è meglio valutare l'utilizzo di un vaso di plastica oppure sì la terracotta ma magari scegliamo un vaso non particolarmente elaborato non particolarmente costoso che possiamo poi andare a rompere con un martelletto e riutilizzare poi i cocci per altri rinvasi anche di piante d'appartamento. Questa lelia purpurata aveva un estremo bisogno di essere rinvasata perché pur essendo il coccio materiale traspirante vediamo che qui molte radici sono andate a deperimento e quindi insomma andavano rimosse e infatti di bark ce n'è quasi niente qui dentro è stato come posso dire mangiato dalla pianta e quindi insomma aveva proprio bisogno di una bella ripulita. Tolte le vecchie vegetazioni questa orchidea non ha bisogno di un vaso più grande ma la ricollocherò semplicemente nel suo originario vaso in terracotta che abbiamo preservato. Siamo riusciti a non romperlo. Ed eccoci qua al lavoro concluso. Intanto la pianta è rimasta asciutta tutta la notte affinché le radici potessero cicatrizzare tutte quelle micro lesioni che si creano normalmente durante un rinvaso e a maggior ragione da un rinvaso in terracotta. La pianta adesso finalmente è sistemata la parte vecchia appoggiata al bordo del vaso e quella nuova che avrà spazio per correre per crescere nei prossimi anni. Fammi sapere nei commenti se anche tu utilizzi i vasi di terracotta oppure ne hai un po di timore. Ti auguro una buona giornata ciao alla prossima